Un giochiamo al varietà, quindi tantissimi pezzi che riguardano il varietà, molti per quanto mi riguarda legati anche alla romanità, a cui tengo moltissimo. Quindi sono romana e ci tengo molto a portare avanti le origini di Roma e a rispettare la romanità che è davvero importante e racconta tante cose belle. Trilussa, Zanazzo e poi non solo, anche tante canzoni, al vecchio stampo però in una maniera più antica ma portando delle innovazioni, così si è possibile al varietà che è già un registro importantissimo per conto suo. Il teatro degli anni 30, il teatro delle macchiette di Petrolini, il teatro delle canzoni, degli scioglilingua, quindi un teatro che è legato alle origini ma che racconta ancora tanto di noi.